Senti, Ed, ti ho detto di darmele! Solo per un doppio per favore! Te lo sogni! Al doppio per favore aggiungo anche due uova con bacon e succo! Dammi le patatine! Mi dispiace, sto cercando di leggere! Aspetta che esca il film, bolla la patatine! Oh, guardate cosa avete combina... Sì! 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 Sì!